Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori! E quest'oggi siamo qui con un video particolare perché è appena uscito il nuovo aggiornamento di Clash of Clans Quindi andiamo a vedere insieme tutti i nuovi miglioramenti che hanno aggiunto all'interno di questo bellissimo giochettino Ma prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione trovate il link della mia manzo wishlist Se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato Inoltre c'è il bellissimo sito di coffee dove potete fare l'azione singola o a cadenza mensile Scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto Andiamo subitici a vedere un pochettino di cosettine regà perché io ho visto qualcosa che potrebbe essere interessante Ma è quanto money grabber da parte di Supercell Però lo andiamo comunque a vedere, abbiamo l'apprendista costruttore E' stato aggiunto l'apprendista costruttore quindi è la prima volta che lo sto vedendo insieme a voi Andiamo a vedere cosa farà questo qui Praticamente l'apprendista costruttore aiuta i suoi colleghi a completare i miglioramenti più velocemente Puoi assegnarti un miglioramento al giorno ma solo dopo che avrà riposato Ok quindi avrà un cooldown Lavora per un'ora al giorno ma puoi migliorarlo per farlo lavorare più in fretta Ok ok signori quindi praticamente il suo funzionamento è diciamo quello della torre dell'orologio del villaggio del costruttore Ma funzionerà soltanto qui nel villaggio principale Inizierà con operativo per un'ora fino ad arrivare a un massimo livello di 8 Quindi la velocità sarà fatta per 8 praticamente ogni costruzione che voi andate una volta sbloccato Io adesso non ho 500 gemme per poterlo sbloccare Una volta sbloccato voi potrete assegnare da come vedete qui sullo schermo i vari miglioramenti Lo assegnate ad una delle varie strutture e vi migliorerà quella fino a 8 ore in meno totali Che non è male, non è male, l'unica cosa è che ci vogliono un bel po' di gemme signori Io adesso mi ero fatto il calcolino che vado subitissimo a vedere Ci vogliono all'incirca per portarlo tutto quanto al completo quindi al livello massimo Ci vogliono 6500 gemme che signori non sono poche Non sono poche, potrebbe essere utile sì Ma 6500 gemme iniziano ad essere abbondanti Abbondanti per semplicemente un velocizzo di 8 ore Che per carità non è male, una volta che le avete spese vi rimane per sempre Quello sì, magari se ne avete qualcuna da parte usatela Io non vi consiglio di andarle a spendere magari tutte quante insieme Perché sono veramente tante 6500 gemme ricordiamo che sono la bellezza di 60 euro E magari è una spesa bella bella prepotente Che non tutti riescono ad affrontare O quanto meno non vogliono magari spendere su Crash of Clans E lo capisco pienamente Anzi, probabilmente io sarò uno di quello che non ci spenderà più di tanto Probabilmente lo sbloccherò appena riuscirò Magari c'è anche il prezzettino qui sotto a 3,49 euro Chi lo sa poi vediamo un pochettino bene Però, 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 non credo che farò tanti upgrade Perché comunque costa tante gemme E non conviene Almeno per il momento Poi se risulterà essere Intanto mettiamo da parte anche 25 gemmine Che troviamo qui Se risulterà essere magari qualcosa di fondamentale Uno ci può pensare Ma in realtà è relativo Perché comunque noi I 6 costruttori già li abbiamo Ne abbiamo sblocato già uno in più Rispetto ad altri Quindi ci sta per il momento Regà, me basta, me avanza Va più che bene in questo modo Comunque procediamo subito a vedere Le seconde cosettine che hanno messo Io ho notato che qui c'è un Uno con scritto nuovo sulle strutture E voglio vedere che strutture ci sono Risorse Ah, ok, no, citava semplicemente quello lì Quindi niente di che Ci segnava che Potevamo acquistarlo anche con le gemme Buono, so che hanno messo una nuova truppa Infatti La caserma nera Può migliorare ulteriormente A livello 11 E va a sbloccare il druido Il druido Presta, cura e si trasforma in uno infuriato Andiamo a vedere insieme Cosa fa Cosa fa Allora 1300 punti ferita Lo vediamo che sta Tra l'altro curando una truppa aerea Non è male, regà Perché non esistono curatori Di truppe aerea Almeno che io ricordi Fino ad adesso E soprattutto Le cure rimbalzano Tra una truppa e l'altra Se sono abbastanza vicine Quindi cura sia terra Che aria Molto interessante Cura un 110 Il tempo di addestramento È veramente veloce 1300 punti ferita Che non sono male Che non sono male E questo è il suo funzionamento Principale Procedere al movimento 24 Spazio richiesto 16 Lo spazio non è poco Lo spazio inizia ad essere Abbastanza considerevole Vediamo subitissimo dopo Perché Questo qui Se riesco a vedere Esatto Si trasforma In un orso a chiotto E quando si trasforma In questo orso Diventa Davvero Molto molto resistente E punta Verso le difese Signori Punta verso le difese È molto interessante Io vorrei Magari provare A vedere Se riusciamo A vedere Come funziona Bene Ottimo Signori Lo andiamo a vedere All'istante Vediamo un pochettino Come funziona Perché potrebbe essere Qualcosettina Di molto Molto Gustoso Ovviamente L'audio Lo abbiamo perso Lo andiamo a mettere Un pochettino Magari Basso Basso E vediamo un pochetto Intanto sta curando Le varie truppe Come dicevamo Funziona Da healer E è molto Molto buono E adesso Si trasforma Nell'orso E io sono curioso Di vedere Qual è il suo Effettivo Funzionamento Nello specifico Quindi sappiamo Che va contro Le difese Vediamo un pochettino Se da questo trailer Ci fa vedere Qualcosettina Ok Intanto salta i muri Quindi è buono Si trasforma Instant È bello E va Ad attaccare Le difese Ok Potrebbe essere interessante Quindi Fino a che Non viene colpito Non si trasforma Appena riceve Il primo colpo Va contro le difese E devo dire Sembra anche abbastanza Incavolato Contro il municipio Ha shottato il municipio O sbaglio Ok Credo che sia Più che altro Una scelta Magari Per il trailer Non credo che Shotterà Il Municipio Ma lo proveremo Magari insieme Per scoprire Anche questo Per scoprire Anche questo Eccoci tornati Su Clash Signori Lo vedremo Magari in azione Appena riuscirò A sbloccarlo Cercherò di farlo Il prima possibile Basta che Metto da parte Delle risorsine Abbiamo anche Un libricino Delle costruzioni Quindi Ce lo andiamo a utilizzare Magari subitissimo In un prossimo video Proveremo A vedere un pochettino Come funziona Io sapevo Che c'erano stati Anche altri aggiornamenti A livello Degli attacchi Quindi voglio andare Magari un attimino Insieme a voi A leggere Questi aggiornamenti E vediamo se Già sono stati aggiunti Allora Ovviamente La nuova truppa La nuova tattica Overview Quello è molto interessante All'interno Degli attacchi Che noi andiamo a fare Nelle guerre Presumo Se non sbaglio Possiamo vedere Tatticamente Quali sono Tutte le strutture Dove sono posizionate A che livello Le hanno Quanta vita hanno E varie varie cosettine Quindi andiamo subitissimo Tra poco Tra l'altro È appena iniziata Anche la war Quindi andiamo a controllare Anche un secondino Lì Com'è la situazione E ci dice Un pochettino Di cosettine Vabbè ovviamente Hanno aggiunto Anche l'hard mode Per quanto riguarda Guerre o sfide Amichevoli Si può selezionare L'hard mode Che andrà a modificare Se non sbaglio Adesso lo vediamo Un attimo Nel dettaglio Qui sotto Insieme L'hard mode Andrà a modificare L'abilità Del Eccolo qua Esatto Siamo da Difficile e attiva Le difese nemiche Infligeranno Il 5% Di danni in più Gli eroi Che schiereremo Avranno il 10% Di salute in meno E causeranno Il 15% Di danni Al secondo in meno Quindi signori Incomincia ad essere Abbastanza Difficilino Ma magari potrebbe essere Interessante Da vedere un pochino Tutti quanti insieme Su come andrà a funzionare Questa hard mode Se sarà Abbastanza interessante Da Affrontare O se è semplicemente Una cavolata Che aumenta leggermente Un pochino La difficoltà Ma non in maniera Così esagerata Poi lo vedremo Bene Magari prossimamente Un pochettino Il tutto quanto Io sono molto curioso Sulla questione Di Evidenziare Tutti gli edifici All'interno di un attacco Quindi Noi siamo qui Il quarto Io vorrei provare A vedere Se al quarto posto Ovviamente Non parto con l'attacco Perché non ho le truppe Voglio provare a vedere Se funziona questa cosa Allora Innanzitutto Ci dice il livello Ovviamente Della struttura Però non ce le segna Tutte quante Come diceva Nel trailer A meno che Non ce le vada A segnare Al momento In cui Noi Andiamo A Attaccare Ok Potrebbe essere Lo proviamo Online Su un amichevole Perché così Stiamo sicuri Visto che non abbiamo Ancora le truppe del clan E devo richiederle Ci vorrebbe Molto molto tempo Proviamo Vedete se ci fa Clicca Esatto Esatto Signori Vedete che bello Ci ha evidenziato Tutte quante le strutture Che io ho selezionato Se selezioniamo i cannoni Ci fa vedere Tutti i raggi Dei cannoni Così come le altre difese E anche i loro Rispettivi livelli Ovviamente Dovrete dare un'occhiata Molto veloce Perché Il tempo di Partenza della sfida È quello che Infatti io adesso Terminerò Tra l'altro Andiamo a cercare un'altro Avrei potuto fare anche avanti Non lo so Però è molto interessante Signori Perché ci dice Il livello Di tutte le strutture Ce l'individua Quindi possiamo Regolarci In base al raggio Totale Delle strutture Che ci potrebbero dare Più fastidio A seconda delle truppe Con cui andiamo ad attaccare È interessante Soprattutto se magari Non riusciamo a vedere Una delle varie difese In questo modo Le vediamo tutte Le vediamo tutte Tutte quante È bellissimo Raga Questo penso che sia Uno dei miglioramenti Che in realtà Non è che serve A tantissimo Però potrebbe essere Molto utile Per ragionare bene Su un villaggio Su come attaccarlo L'unica piccola pecca È che purtroppo Possiamo vederlo Soltanto una volta Affrontato l'attacco Cioè una volta deciso Di attaccare Per quanto riguarda Le guerre Io parlo Poi per l'online Ovviamente avete I vostri 30 secondi iniziali E ok Anche per le guerre È lo stesso così Ma se fate Soltanto la ricognizione Purtroppo Non vi fa vedere Nulla Quindi È un po' Un po' Una pecca Tra l'altro E poi hanno aggiunto Una nuova animazione Ai miglioramenti Perché si vedono Così tanto È interessante Vabbè Ci sa Ovviamente Comunque Dava fastidio Che diventava Invisibile Tra l'altro Direi che questo qui Ce lo possiamo attaccare Quindi vediamo Le truppe Tra l'altro Questo è un inattivo Quindi è molto easy Le difese Che più ci danno fastidio Sarebbero Queste scaglie pietre Raggiungono Quel raggio All'interno Di Feserie Attualmente attacchiamo Di terra Quindi non ci interessa Ma in realtà Il ragazzo Qui li aveva piazzate Molto molto bene Perché coprono Tutto l'intero villaggio Ottimo Così anche Come le torri inferno Ovviamente Presumo che una volta Iniziato l'attacco Noi possiamo continuare A vedere Bello Questo non me l'aspettavo Ci sta Però io direi Che possiamo procedere A fare Signori Questo attacchino Al volo Visto che abbiamo trovato Un villaggetto Con una marea di risorse E soprattutto Inattivo Quindi Ce lo sfruttiamo Bene bene E devo dire Che signori Tra l'altro Posso continuare A cliccare Sulle difese No ovviamente Una volta che voi Schierate le vostre truppe Sarebbe stato Troppo Semplice Probabilmente O troppo complicato Anche da gestire A livello di gioco Non potete più Selezionare Quel che vi serve Quindi mi raccomando Se dovete fare Le vostre votazioni Fatele All'inizio Io qua Non sto manco A seguire l'attacco Non sto a vedere Neanche come stanno andando Però dicevo Fate le vostre considerazioni All'inizio Mi raccomando Perché una volta Startato L'attacco Una volta posizionate Le vostre prime truppe Non potrete più Toccare Nessuna difesa Degli avversari Non potrete capire Se a che livello La ha Se qual è il suo Raggio di azione Se dove Puntare a Mettere meglio Una pozione O quant'altro Quindi dovete farvi Diciamo Un piano Nei primi 30 secondi Iniziali Del gioco Che Comunque Ci sta Raga Avete troppo tempo Sarebbe troppo facile Magari riuscire Ad andare Ad attaccare Un altro villagino Tra l'altro Ci siamo fatti Anche un bel 100% Pulito Tutte queste belle Risorsine Signori Ce le siamo portate A casa Succulente Succulente Molto molto oneste Devo dire Che questo aggiornamento Ha i suoi pro E ha i suoi contro Per il momento Sembra Simpatico Niente di esagerato Più che altro Sono molto Molto Davvero Molto curioso Di andare A provare Il druido Perché questo Potrebbe essere Molto Interessante Da Magari Sfruttare Anche Anche Come il Per truppere Visto che Le truppere Fino ad adesso Non avevano il Quindi Chi lo sa Chi lo sa Signori Ovviamente Le combinazioni Magari Poi le andremo A vedere Un pochettino Insieme In un altro Video Ovviamente I spazi 16 Richiesti Non sono Pochi Non sono Pochi E danno Abbastanza Fastidio Perché In un attacco Aereo Dove Andiamo A utilizzare I nostri Bellissimi Draghi Elettrici Che ci occupano Uno scada Faccio Ci occupano 30 spazi Andare a aggiungere Anche un healer Per loro In realtà Non serve Perché hanno Un bordello Di vita Però Nell'ipotesi Che uno Volesse andare Ad aggiungere Un healer Al suo Mucchio Di draghi Dovrebbe rinunciare Almeno a due Draghi Per aggiungere 4-5 Healer Che Signori Probabilmente Non è Proprio la Cosa Migliore Non lo so Non lo so Perché dovremmo provarlo Ovviamente Adesso ho detto I draghi Elettrici Ma i draghi Elettrici Non hanno Tanto senso Da andare A utilizzarci L'heater Perché hanno Comunque Tanta vita Magari Sui draghi Normali In realtà Hanno tanta vita Anche loro Il druido Potrebbe Potrebbe essere Interessante Magari Le proveremo Ovviamente Scrivetemi Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Voi di questo Aggiornamento E se Soprattutto Vi piace Ciò Che Ciò che Hanno fatto Ciò che Hanno aggiunto Ciò che Hanno sistemato Scrivetemelo Qui sotto Ovviamente Vi invito A lasciare Un bel like Di supporto E a condividere Il video Con i vostri Amici Perché È importantissimo Signori Più siamo E meglio E ovviamente Iscrivetevi al canale E attivate La campanellina Per rimanere Sempre aggiornati Su tutti i video Perché ho visto Che molti di voi Li guardano Ma non sono iscritti A voi Non costa nulla Mi fate Un piacerone enorme E niente Che dire Qui da Ciris Può essere tutto Noi ci vediamo Con un prossimo video Dove andremo a provare Il druido E magari qualche Combinazione interessante Spero che questo Piccolo video Velocissimo Di aggiornamento Vi sia piaciuto Vi mando Un bel bacione E ci vediamo Alla prossima Bella Alla prossima